Grazie a tutti E stare fino a domani mattina tutti insieme Ma soprattutto quelle 40 persone che la domani possono ricominciare a vivere un'altra vita Con più di vita in questa calabria Ricordiamolo, a Cosenza ci sono stati 800 strati dell'ultimo anno Questa è la nostra risposta Quando veniamo qui a Nord a suonare le canzoni Per noi è Nord Ci piace fare questa canzone che si chiama Torana e ti te amo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti